Benvenuto Mauro a Classic Drive Art. Sono io contento e sono orgoglioso di essere qui con te. Io sono felicissimo perché da motociclista a motociclista, molto contento di averti io qui. Senti Mauro, tu hai scritto un romanzo storico, sei un autore, sei appassionato di motori, il romanzo si intitola La Scalata, Quattro Valichi Alpini e io vorrei sapere un po' da te la storia dei due protagonisti. Allora il nome del romanzo è tratto da come veniva chiamata una corsa che si è svolta per una decina di competizioni dal 1927 al 1954. Il romanzo prende spunto proprio da questa competizione. Si svolge proprio a cavallo tra 1920 e 1954, quando due ragazzi del paese, di un paese della Val Camonica che si chiama Edolo, crescono insieme e fanno le stesse esperienze e tra di loro c'è un certo amore e odio o più che altro, più che odio, diciamo competizione. Uno che è di estrazione diverso dall'altro. Questi due ragazzi, scusa se ti interrompo, hanno due caratteri, oltre a due estrazioni, come si diceva all'epoca, sociali differenti, hanno anche due caratteri differenti. Sì, uno ricorda le tribolazioni e soprattutto i patimenti che ha avuto durante il periodo in cui era Martinit a Milano, mentre l'altro è il figlio del sindaco, però dentro di sé c'è un problema. La mamma non è una mamma presente, è sempre una mamma piuttosto assente. E la passione per le moto come nasce? Che poi è praticamente quello che è la storia dei due personaggi durante la competizione motociclistica. Ma i due ragazzi sono attratti tutti e due dalle moto. Tu sei anche un illustratore, perché le illustrazioni del tuo romanzo storico le hai disegnate tu. Disegni sempre un topolino nelle tue illustrazioni. Perché il topolino è la mia firma. Il topolino rappresenta una parte di me stesso, un po' di ironia, perché l'ironia nella vita ci vuole sempre. Lo metti nel punto giusto, non sempre in uno stesso punto, no? No, no, dove capita, e dove penso che in quel momento lì sarebbe bene. Lui la sua presenza c'è, ma deve essere discreta. Questo romanzo è per tutti coloro che sono appassionati di motori e anche di aerei, perché no? E soprattutto per chi è appassionato di storia. Sì, il libro è pieno di storia. Praticamente passa i vent'anni del fascismo e la storia è molto presente in tutto il libro. Bene, Mauro. Allora, grazie per essere stato a Classic Drive Art. Io ti ringrazio, è stato un vero piacere, un onore. Tutto mio. Tutto mio, grazie. Spero di averti di nuovo in trasmissione. Mauro, grazie per essere stato con noi ancora. A presto e buon tutto. Ciao. Ciao. Ciao.